Come fare lo spezzatino con le patate. Ciao e benvenuto in questo video. Oggi faremo un gustosissimo spezzatino con le patate. Gli ingredienti cipolla, carote, vino nero d'avola, patate, sale e pepe, prezzemolo e carne magra. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Ciao, ciao.